Casual Calza cotone maquo egiziano, reversibile Polo seta e cotone Pantalone nocciola vita alta La polo la indossi all'interno Doppia pezza Cinturino 5 cm Monopetto, tasca a filo, revers 10 cm Per l'orologio Zenith è il primero Capolavoro Un look spettacolare con questi tessuti lucenti E i giusti dettagli che contribuiscono a fare la differenza tra uomini e ragazzini Capolavoro